è giunta l'ora di arrivare a conoscere un'altra disciplina abbiamo visto un piccolo antipasto prima della presentazione è arrivato il momento di portarvi appunto nel Medio Oriente con cosa? Beh, con una delle più antiche danze del mondo esprime interamente la femminilità e la vitalità questa danza è caratterizzata dalla sinuosità e dalla sensualità dei movimenti eseguiti soprattutto ma non esclusivamente dalle donne il gruppo che vi presento non offre solo performance di danze orientali ma anche di tribal fusion, uno stile recentemente nato in America e che sta prendendo sempre più piede anche qua in Italia basato sui movimenti della danza del ventre loro sono le Sahara Dance il gruppo al completo è formato da cinque splendide ballerine stasera in rappresentanza delle Sahara Dance ballano Leila e Nora un bel applauso Sahara Dance San Frias Cosa cupola 0 2 2 2 3 4 3 1 A presto 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 A presto